ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video questo nuovo video di apriamo una box di good to go speriamo che questa è una box di penny market come vedete anche dalla busta e anche questa prezza papi sotto speriamo di trovarci qualcosa per cena per domani per domani ho una colazione per domani perché penny market un supermercato quindi colazione visto che oggi sono andata dritta dritta nel pensile della cucina dove ci sono le cose merendine biscotti e non c'erano più i connetti bali erano brutti e buttati no erano così buoni mamma mia sempre presa da una box di che cos'era quella la sfida di tempo che poi non so più carico erano il carico forse perigiano e niente tornando dalla piscina oggi ho visto questo penny market vicino lì più o meno nei pressi nella zona e quindi ho detto tornando a casa fermiamoci prendiamo la box da 3 euro e 99 in realtà non c'era nient'altro oggi qua nei dintorni quindi questa qua il triplo 12 euro 12 euro per il market con 12 euro riesce a comprare qualcosa tra l'altro siamo andati a lidl mentre lione era in piscina e 13 euro speso che avevano preso la carne macinata per domani le orecchiette che altro due bottiglie di salsi stanno facendo lo svuotato il prosecco per fare domani due busti di patati la zia di chi viene a fare l'aperitino e la ciamberina alion 13 euro immagino che questa è pesantina e anche bella grandicella speriamo che generosa chiusa non l'abbiamo sgherciato non sgherciare perché sono un po' di sorpresa ma lo vedrò per fuori si dico facciamo una sorpresa se no che sgherciamento è che mistery box è ma vabbè vedo i ragazzi che cos'è? le chiacchie? ma addirittura! le chiacchie con glass al pistacchio le chiacchie con glass al pistacchio ci abbiamo bisogno le chiacchie con glass al pistacchio ma ci abbiamo bisogno il dolce per domani però sono tutte tutte quanto scaldo eh le chiacchie con glass al pistacchio le chiacchie con glass al pistacchio questo è quello che si fa qua c'è la spazienza credo 30.04 domani no domani è primo maggio stasera va bene anche domani le mangi sono brutte va bene sono già brutte perché sono tutte spezzate però no non mi dite ragazzi che sono tutte no perché comunque è bagnata quindi ci dovrebbe essere qualcos'altro beh queste le possiamo offrire no vabbè ragazzi altre chiacchiere che stavano oggi giusto? qualche chiacchie io parlo qualcosa stasera a cena un po' a colazione allora stasera non parliamo di chiacchiere a sole oggi che è la mia riera come direi ah ancora le cose che ti piacciono a te ah sa zizza domani meno 30% ancora più buone carni mister la macelleria ma enorme questa va fatta rostita eh sì con un po' le tacchie ah vabbè domani rostiamo questa lasciamo quella congelata Chanel sei buona? quella che si grecca sempre le giornate no vabbè forse era quella con la bagnata no c'è anche qualcosa altro qua di bagnata ah beh di frigo voglio dire prosciutto a cotto prosciutto a cotto a alta qualità wellness eh vabbè questo va bene perché dovrebbe essere meno vabbè prosciutto a cotto mh questo superiogista capito? sì tutto oggi vabbè stasera vabbè stasera facciamo un bel panino dai che te lo mangi domani stasera vabbè oh iii per me per me per me yogurt eh sì proia alla vaniglia questo qua della al 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 quante calorie c'ha questo eh certo senza zuccheri aggiunti 40% dei po' ha bisogno di giornaliero ah ecco eh non ho gli occhiali per porzione sono 156 calorie una buona colazione voglio fare il colazzo per dove vai eh però se c'ho le chiacchiere è inutile che sto a ah per me kebab di pollo kebab di pollo stasera stasera con la cena io la voglio assaggiare eh sì facciamo un po' il curry no non mi piace però è di pollo vabbè poi si scavate sì facciamo una sera si mette nel panino sì c'ho ancora i panini quelli per hamburger eh questo è mio ragazzi siamo generosi stasera ma vabbè no devi scegliere viaggio nel gusto che cos'è angus americano eh americano poi ragazzi ah se me la faccio dai me la faccio che cosa devi fare questo o quello qualcosa lo possiamo congelare di bovino adulto bistecca reale eh questo scade il 30 sempre oggi quello quando scade il kebab sennò il kebab si può congelare penso di sì raga vabbè sennò lo so mangiare domani e quando domani dobbiamo fare la pasta al forno ti fai questo domani e sa e cangeli eh sì questo te lo fai tutto in padella in padella penso sia rossita e fai questa la salsiccia vabbè però la pasta al forno con le polpette quante cose cioè spostiamocene un po' secondo me questa tu la puoi stasera direttamente morbida raga mangiare la puoi direttamente congelare te la mangi domenica e questo lo facciamo oggi l'ho già attaccato l'angus americano il pepab il kebab che poi non c'è scritto qua premia curata cottura va aperto consumare subito questo va consumato subito è per premia curata cottura però non c'è scritta la scadenza è scritta in 30 in 30 in 30 in 30 in 30 vabbè ok ho deciso cosa perché ho paura questo che se lo congeli diventa tutto un ammasso no mangiamo questo facciamo questo lo facciamo con che cosa con con un po' di di salsa ok si va bene e niente però devo dire che non so quanto io apprezzo mi ha fatto lo scontrino ma scontrino di 30 di 3 euro e 99 però c'è tanta roba c'è tanta carne a parte le due cose di chiacchiere però c'è abbiamo tre tipi di carne saldizza che cosa è qua l'angus filetto di angus kebab prosciutto cotto e poi c'è lo yogurt e il dolce è tutto molto proteico è grasso diciamo che ci siamo a parte le chiacchiere comunque eh sì però queste chiacchiere qua mo perché scadono e va bene però sono fatte sono tenute proprio bene ci saranno anche molto buone queste sono quelle no questo si può assaggiare domani con lo yogurt ci bagno le chiacchiere non so molto dolce non so ma sai perché ha molto non è pistacchio la granela di pistacchi raga ma questa parte bianca è cioccolato bianco eh per questo è dolcissimo ed è molto aromatizzata tipo limone ci sarà tanto è vero Patti? eh sì vabbè o limone o qualcosa di alcol vabbè vedremo comunque molto buone ah sì molto buone oh beh allora mi stavo un po' di rabari stinicchiamo va bene ragazzi quindi una bella box a prezzi credo 12 euro giusto? sì ci siamo arrivati ci siamo ci siamo non è che l'abbiamo strafato comunque penso che ci siamo no no e adesso poi a 3 euro 3,6 euro 2,5 euro t'ha scritto? no no dai sì anche 3 euro 3,6,9 questo starà 1 euro 10 questo anche 2 euro 1,50 poi c'è due di chiacchiere qualcosina in più dai te l'ho messa qualche cosina proprio tanta regata una cosa di chiacchiere in più quella rotta comunque una bella box ci sta eh niente ragazzi fatemi sapere se volete vedere una qualche altra tipologia di video e scriveteci proprio sotto che tipo di che tipologia di video mi interessa se ci volete fare delle domande facciamo un video di risposte alle domande se avevo pensato di fare un video un vlog di tutta una settimana tipo non quelle che fanno di solito vedo altri youtuber che fanno tutta la settimana il vlog di tutta la settimana sempre ma un ogni tanto tipo una serie per farvi vedere la settimana tipo nostra fatemi sapere se se vi può piacere se no dateci voi anche qualche altro spunto di qualche tipologia di video ci stai facendo qualche consiglio eh eh sì perché a parte to good to go su tutta la spesa e qualche vlog della giornata di feste di solito che facciamo noi dice ci vuoi dice ci vuoi se la facciamo la prossima settimana mi fanno come di me trepitocassi eh vabbè sì a parte i vlog così me trepitiamo quelle che ve le farò le faccio io di mio però lo so ditemi scrivetemi insomma che tipologia di video volete vedere se volete vedere qualcosa di diverso quindi da questo video vi salutiamo e ci vediamo e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao